Hanno aggredito due prostitute cinesi con calci e pugni, le hanno minacciate con un coltello costringendole a consegnare alcune centinaia di euro. È successo nella serata di sabato in un'abitazione di Salleo. I carabinieri hanno fermato due italiani che si erano introdotti all'interno di un'abitazione utilizzata da due ragazze cinesi. Dopo essere state picchiate, erano state derubate anche di centinaia di euro. Le grida delle due donne e la fuga di una di esse ha richiamato l'attenzione di alcuni vicini che hanno subito dato l'allarma ai carabinieri. Le pattuglie intervenute nell'immediatezza hanno rintracciato e bloccato i due rapinatori in fuga per le strade circostanti, recuperando il denaro contante che era stato sottratto alle due donne. Nell'appartamento i militari hanno trovato una delle giovani in gravissime condizioni, mentre l'altra, anch'essa ferita, è stata rintracciata a poco distante con una borsa contenente oltre 6.000 euro. Il denaro, ritenuto provento dell'attività di prostituzione, è stato sequestrato. Le due donne hanno riportato gravi traumi facciali e sono state soccorse trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. I due arrestati si trovano nel carcere di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.